Dunque, abbiamo superato il punto 1, continuiamoci sul punto 2. Ci guida già abbastanza questo testo perché ci dice, guarda, tu considera le circoscrizioni come un grafo, in cui le circoscrizioni siano i vertici e il peso degli archi sia rappresentato dal numero di eventi avvenuti da due circoscrizioni ad accenti, eccetera, eccetera. In tale grafo si calcola un cammino semplice. Allora, prima costruiamo il grafo. Dove lo costruisco il grafo? È dentro il modello, perché poi il controller meno capisce meglio è, quindi non ha bisogno normalmente di conoscere il grafo, come è strutturato, ma avrà bisogno semplicemente di lavorare con gli oggetti e gli elenchi gli oggetti. Quindi, all'interno del nostro modello dovremo aggiungere tra le variabili gestite anche un grafo. Grafo di che tipo? Quindi ricordiamoci che quando creiamo un grafo dobbiamo andarci a scegliere poi la classe jgraph.t da utilizzare. Allora, io torno sempre a queste, no, perdon, a queste slide che mi danno la guida alle classi che mi dicono, allora, tre semplici domande. Il tuo grafo è orientato o non orientato? Ma è sicuramente orientato, quindi devo stare nella metà destra della figura, perché il numero di trasferimenti di traslochi dalla 1 alla 3 non è uguale al numero di traslochi dalla 3 alla 1, quindi è orientato. Pesato o non pesato? Pesato. E quindi devo stare nel blocco centrale, quindi vuol dire che deve essere una di queste tre classi qui, che sono qua sotto. E in base a che cosa le distingo? Le distingo sulla base della moltiplicità degli archi. Il grafo è semplice, semplice significa che non contiene né archi multipli né cappi. Un multigrafo invece contiene di tutto. Uno pseudografo in questo caso non c'è la classe sottostante, quindi non mi interessa, potrebbe contenere dei cappi ma non degli archi multipli. Oppure un grafo non semplice, c'è un grafo che possa avere i loop, i cappi, ma non gli archi multipli. Chi guarda caso è proprio il nostro caso, perché noi abbiamo degli archi tra la circostruzione e se stessa, perché sono quelli che traslocano all'interno della stessa circostruzione. Non abbiamo archi multipli, nel senso che dalla circostruzione 1 alla 3 c'è un arco solo, non ce ne sono più archi. Poi c'è quello dalla 3 alla 1, ma essendo orientato è un arco diverso, non è lo stesso grafo. Quindi in realtà dobbiamo usare la classe che c'è qua sotto. Adesso andiamo a vedere come si chiamava. Si chiamava DefaultDirectedWeightedGraph. Che è una sottoclasse di DefaultDirectedGraph. Quindi, DefaultDirectedWeightedGraph. Ricordiamocelo fino a quando non arriviamo a scrivere la Clips. DefaultDirectedWeightedGraph. Adesso, qual è il tipo dei vertici e il tipo degli archi? Il tipo dei vertici, allora i vertici sono le circoscrizioni, quindi è integer, perché l'oggetto che rappresenta la circostruzione non è per noi un intero. Il tipo dell'arco, invece, DefaultWeightedEdge. Ricordate che ci sono due tipi di archi predefiniti nella libreria JGraphT, che poi se vogliamo possiamo definire i nostri, ma se no ci sono un DefaultWeightedEdge è un DefaultEdge. DefaultEdge è l'arco di Default senza peso, non pesato, DefaultWeightedEdge è quello invece pesato. Quindi, questo è il grafo che ci serve. Il tipo di grafo che ci serve. Allora, dentro il nostro modello possiamo costruirci una funzione di utilità che costruisce il grafo sulla base dei dati presenti nel modello stesso. Magari non lo faccio fare nel costruttore, ma uso un metodo a parte. Per due motivi. Uno, per non rallentare il costruttore, visto che il costruttore viene chiamato all'inizio del programma, abbiamo detto che dobbiamo uscire veloci. Due, per non modificare una cosa che funziona. Ricordiamoci, il contesto esame, fin qua funziona tutto. Quindi, se non tocchiamo nessuna delle funzioni che abbiamo, siamo ragionalmente sicuri che continuerà a funzionare. Se invece andiamo a pacioccare le funzioni che già esistono, a nostro rischio, dobbiamo riverificare che il punto 1 continui a funzionare bene. Quindi, proprio per strategia d'esame. Allora, private, void, build graph. un metodino che ha come unica scopo quello di creare il grafo. Visto che questa è una variabile distanza, il grafo, possiamo pensare che magari questo metodo big graph magari venga chiamato più volte da parte dei metodi che ne hanno bisogno. per cui lui stesso può dire se il grafo è già stato creato non ho niente da fare. Altrimenti, lo crea. Così non ho problemi nei vari metodi che hanno bisogno di un grafo, del grafo. Come primo metodo chiamano la build graph, se questa in realtà è già chiamata la prima volta, non fa più nulla, invece la prima volta farà il lavoro vero e proprio. Allora, big graph cosa fa? Crea il grafo. New default directed weighted graph bla 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 Default directed weighted graph e come class avrà default weighted edge punto class. Ricordiamoci che nel costruttore dobbiamo sempre passare il punto class, quindi il riferimento alla classe degli archi che lui creera. I vertici li creiamo noi, quindi lui non ha bisogno, ma le archi, visto che li crea lui, per poterle creare bisogna sapere di quale classe crearle. Ok. Default directed weighted graph. Qui ho il grafo vuoto, aggiungo i vertici e aggiungo gli archi. I vertici cosa sono? Le circoscrizioni. Quindi, graphs punto add graphs punto add all vertices, ad esempio, visto che abbiamo già la collection con le circoscrizioni, conviene usare il metodo di utilità add all vertices che le aggiunge tutti in un colpo anziché dovrebbe aggiungere uno a uno, sempre per pigrizia e per semplicità. E qui passo che cosa? L'elenco delle circoscrizioni. Ce l'ho già. Il mio set, che può sempre una collection, lui si aspetta una collection, quindi che sia un set, che sia una lista, va bene. Quindi, in questo momento, ho il grafo che contiene tutti i dieci nodi che corrispondono alle circoscrizioni. E poi devo aggiungere gli archi. Aggiungere gli archi non è difficile, perché in realtà li devo aggiungere tutti, tra ogni coppia di circoscrizione. il problema è come calcolare il peso di questi archi. Come calcolo il peso dell'arco? Devo fare la somma di tutti gli eventi tra quella circoscrizione di partenza e quella circoscrizione d'arrivo. Cioè il grafo da l'arco da 3 a 7 deve avere come peso la somma di tutti gli eventi di trasloco della 3 a 7. Però in parte queste cose le ho già, perché questo gettotale movimenti da fa già metà del lavoro. Per cui, anziché andarmi a inventare qualcosa di nuovo, potrei riusare questo metodo. Ogni volta che chiamo questo metodo mi dà i pesi dal vertice che decido io di partenza a tutti gli altri. E allora aggiungerò tutti gli altri archi. Poi cambio il vertice di partenza, richiamo il metodo, lui rifarà un'altra query, va bene, e poi mi dà però i pesi verso tutti gli altri archi e li aggiungo. Quindi, molto semplicemente potrei dire per tutti i vertici da partenza che sono tutti quelli della circoscrizione. Restituisco, mi faccio calcolare l'elenco dei vertici d'arrivo con le relative distanze. quindi devo, scusate, prima devo creare il DAO. A questo punto dirò per ogni circoscrizione di partenza lista di movimenti destinazione di plurale uguale DAO. Punto get totale movimenti da quello di partenza. Movimento, non movimenti, scusate. E quindi adesso esplorando questo elenco destinazioni avrò tutti gli archi con il loro peso uscenti dal vertice di partenza. Quindi avrò for movimento due punti mov per farla breve, no, scusate, movimento mov due punti destinazioni destinazioni per tutti i movimenti che sono in questa collection cosa faccio? Aggiungo un arco anche qua posso usare il metodo di utilità graphs che ti permette di aggiungere un edge in un colpo solo perché di solito usando i metodi direttamente di graph dovrei aggiungere l'arco e poi dopo settargli il peso mentre c'è questo metodo di convenienza ad edge ad edge questo qua che riceve in parametro il grafo il vertice di partenza e il vertice di arrivo e direttamente il peso quindi fatichiamo di meno grafo è graph il vertice di partenza è partenza il ventice di arrivo è move.get circoscrizione destinazione il peso è move.get totale get numero 20 si chiama quindi ho preso una circoscrizione per volta ho usato il metodo che già avevo per avere distanze da tutte le altre circoscrizioni per ciascuna di queste distanze quindi andando a iterare queste seconde ho aggiunto degli archi col ciclo interno col ciclo esterno invece passo al secondo vertice di partenza e così via vediamo se funziona se fa qualcosa di sensato potremmo pensare per verificarlo magari fare un piccolo main di prova in cui vado a creare il grafo e stamparlo per vedere cosa succede quindi abbiamo public static void main prima di andare avanti a implementare altre cose conviene qui siamo nella fase difficile verificare ogni singolo passo quindi io posso avere chiamiamolo self per dire sono io mi creo un modello e poi chiamo self.buildgraph e poi faccio un system.out .println di grafo terra terra ma giusto per verificare questo metodo di self.graph quindi proviamo a fare il run direttamente nel modello allora qui come sempre non è facilissimo da leggere però si dice che è un grafo i cui vertici sono questi dall'1 al 10 i cui archi non mi fa vedere il peso ma sono 1,1 1,8 1,3 e dovrebbero essersi più o meno tutti vabbè sembra che ci siano tutti a prima vista poi basterebbe contare quanti archi ci sono mi aspetterei che fossero 100 quindi la build graph ragionevolmente funziona quindi adesso ci concentriamo sull'algoritmo cosa dobbiamo fare? ci eravamo fermati a un certo punto perché diceva costo di interpreta circostazione con un vertice di un grafo e noi abbiamo fatto questo grafo adesso cosa dobbiamo farci su questo grafo? leggiamo la seconda metà della domanda si calcoli un cammino semplice che abbia come vertice di partenza circostazione specificata all'utente come lunghezza il numero specificato e che massimizzi la somma degli eventi di trasferimento quindi questo è un problema di ricerca devo ricercare tra tutti i possibili cammini che partono dal vertice scelto dalla 3 che camminino su quel grafo lì senza passare due volte dallo stesso elemento cammino semplice e che siano di una lunghezza prefissata quindi lunghezza tot allora tra questo insieme di tutti i cammini devo scegliere quello che è la somma dei pesi maggiore massima allora il fatto di dover esplorare tutti questi cammini mi indirizza abbastanza verso una procedura ricorsiva perché è in modo più semplice alla fine più breve di implementarlo ok procedura ricorsiva in cui costruisco ricorsivamente il cammino avrò una procedura che parte dal vertice di partenza poi prova ad annettere come secondo vertice tutti i possibili vertici non ancora considerati e poi ricorsivamente proverà per ciascuno di questi secondi vertici appena annessi ad aggiungere un terzo tra quelli non ancora considerati e ogni volta fa il conteggio di qual è la lunghezza di quel cammino quando quella lunghezza è massima se si salva è maggiore della lunghezza mai vista prima se la salva da qualche parte esattamente il lavoro che avete fatto col TSP al rovescio in cui non cerco di minimizzare ma cerco di massimizzare quindi la disuguaglianza sarà il contrario mi devo salvare non il percorso più breve visto ma più lungo visto e poi la condizione di terminazione di questa ricorsione non sarà ho chiuso il cerchio ho chiuso il ciclo ma ho raggiunto 3-4 vertici perché la lunghezza è la lunghezza prefissata di questo cammino che è inferiore al numero totale di vertici quindi anche qua possiamo pensare di lavorare a partire dal modello il modello cosa deve offrire devo offrire un metodo al controller a chi lo vuole chiamare che calcoli questo allora cosa devo stampare perché innanzitutto per sapere che valore devo ritornare devo sapere quali dati mi servono si calcoli un cammino quindi sembrerebbe che il risultato di tutto questo sia il cammino cioè mi aspetto che cliccando su ricerca lui mi dica il cammino che cercavi è 1-3-7 1-3-7-2 se è lungo 4 basta nessun'altra informazione ok? così dice il testo non dice stampami anche la distanza anche la lunghezza del cammino dice il cammino poi è vero che costa poco anche stampare la lunghezza però chiariamoci prima che cosa vogliamo come risultato finale il cammino quindi vuol dire che nel mio modello qui sono dentro model avrò bisogno di un metodo pubblico questa volta che mi restituisca un elenco di vertici una lista di interi che è il cammino get cammino max e il cammino massimo viene calcolato a partire da a partire da un vertice di partenza e da una lunghezza del cammino integer partenza integer lunghezza questo è il metodo chiave cosa farà questo metodo? beh crea il grafo e attiva una sorta di tsp su quel grafo e poi restituisce il risultato di questo tsp il tsp stesso cioè l'algoritmo adesso lo sto chiamando tsp ma non è perché è un problema diverso sarà basato su un algoritmo ricorsivo e come tutti gli algoritmi ricorsivi ha bisogno di una serie di variabili d'appoggio che siano comuni a tutti i livelli della ricorsione in modo da tenere traccia dei percorsi minimi eccetera allora io preferisco non inquinare il modello con tutte le variabili d'appoggio della ricorsione perché sennò non capisco più niente allora mi creo un'altra classe che sarà dedicata a risolvere questo all'implementazione dell'algoritmo ricorsivo con tutte le variabili d'appoggio così il mio modello rimane pulito meno tocco una cosa che funziona quindi nel mio modello nel package model affianco il modello principale da un'altra classe chiamiamola solver vi piace? la classe solver che è quella che contiene l'algoritmo vero e proprio solo l'algoritmo questa classe avrà un costruttore cosa ha bisogno di sapere questa classe per lavorare tre cose il grafo no il vertice di partenza e la lunghezza basta diamone subito come costruttore quindi sarà avrà un directed no come si chiama default directed weighted graph the integer directed no default weighted edge graph virgola integer partenza virgola integer lunghezza aspetta graffa chiuso graffa e poi avrà come interfaccia così chiudiamo l'interfaccia di questa classe e così possiamo chiudere il model che lo richiama avrà un metodo che dice dammi cammino avrà un metodo pubblico quindi nel costruttore gli passo le informazioni di cui deve lavorare poi un metodo per dirgli adesso dal mio risultato public list di integer get cammino max per ora facciamo ritornare a nullo così non sarebbe il compilatore e quindi qua dentro poi andiamo a sviluppare l'algoritmo ma a questo punto qui possiamo concentrarci su quello in definirci tutte le nostre variabili locali che ci servono pensare sulle ottimizzazioni è tutto qua dentro il modello a questo punto deve fare una cosa semplice istanziare un solver e fargli fare lavoro quindi il modello farà solver solver uguale new solver e come parametro il grafo di passo il vertice di partenza e la lunghezza sono fortunato perché le variabili si chiamano già nello stesso modo return solver punto get cammino max che è già la list di integer che mi serviva fine tutto perché abbiamo deciso di non fare di non implementare troppi metodi ricorsivi troppe variabili dentro il model quindi incapsuliamo la risoluzione del cammino del cammino massimo dentro una classe diversa che fa solo quello e che riceve solo l'informazione che gli serve volendo possiamo andare ad agganciare anche questo al controller che ci manca molto poco perché il controller a questo punto chiamerà questo metodo del DAO scusate del model chiamerà il metodo get cammino max e poi visualizza i risultati ok diamo per scontato che quello lo facciamo se abbiamo tempo lo facciamo negli ultimi 20 secondi non ci vuole di più entriamo qua dentro get cammino max allora qui devo impostare l'algoritmo ricorsivo l'algoritmo ricorsivo come lavora di che cosa ha bisogno devo costruire un cammino passo passo costruire un cammino passo passo quindi devo avere una lista che via via si accresce che rappresenta il cammino che ho costruito finora e poi l'informazione su quali vertici sono ancora liberi per poter essere raggiunti al cammino sono due informazioni minime per poter impostare l'algoritmo e poi dovrò avere delle variabili in cui salvare il miglior risultato trovato perché la ricorsione le cerca tutte ma non è detto che quella che trovo per ultima sia la migliore magari la trovate già molto tempo prima e deve essere salvata da parte e la sovrascrivo solamente quando trovo una migliore ma tutto questo sto rifacendo in forma abbreviata il ragionamento che avete fatto sul TSP allora innanzitutto partiamo dal costruttore devo salvarmi queste cose localmente private private integer partenza private integer lunghezza questi sono i dati di partenza che il costruttore ci pensa a salvare ok dopodiché questo è il costruttore non fa non fa molto altro se non ci viene in mente qualcol'altro da fare di fare dopo che il cammino è quello che invece fa il lavoro vero e proprio quindi dovrà inizializzare le strutture dati su cui si basa la ricorsione queste strutture dati dicevamo sono il cammino che sto costruendo lo dichiaro come variabile di distanza qua nella classe perché tutti i livelli ricorsivi devono poterlo vedere quindi non posso mettere dentro un metodo perché il metodo ha le sue variabili e ciascuno vede le prove quindi avrò una lista di di vertici integer che è il cammino che sto costruendo chiamiamolo pure part poi avrò devo sapere quali vertici sono già stati usati ok allora posso usare un insieme un set di integer che chiamiamo usati used così è veloce dire l'ho usato o non l'ho usato c'è o non c'è poi dovrò avere private il cammino migliore visto finora best path la lunghezza del cammino migliore visto finora perché alla fine devo per poterlo confrontare devo sapere quanto era lungo il migliore quindi il get cammino max che cosa fa mi inizializza queste strutture dati e poi lancia la ricorsione inizializza le strutture dati per la prima chiamata per la prima chiamata ricorsiva quindi deve creare queste liste quindi path uguale new array list integer poi vuole un punto e virgola sì lo so scusami anche best path no best path non mi serve perché finché non posso dire che un cammino migliore l'ho già visto finché non lo vedo quindi ve lo lascio nullo best length allora sto massimizzando ok sto cercando il cammino più lungo quindi la variabile che mi dà il best la devo inizializzare a un valore che sia sicuramente minore di tutti i cammini che vedrò eh meno uno in modo che la prima volta che vedo un cammino dico ah è meglio del precedente che era meno uno e quindi la prima volta che vedo il cammino dà che lo salvo quello che avevate fatto con Squillero nell'ultima volta era quello di inizializzare il cammino anziché un cammino vuoto con peso fittizio al cammino gridi con l'euristica gridi che si trova comunque un cammino più o meno buono però qua va bene se abbiamo più tempo magari lo possiamo fare però ora facciamo una versione magari meno efficiente ma più rapida quindi senza ancora quell'ottimizzazione qui used devo anche inizializzarlo uguale new set facciamo un hash set di integer ok dovremmo avere occhi e croci tutto pronto per attivare la ricorsione allora l'argomento ricorsivo parte con già un cammino fatto dal primo elemento l'argomento ricorsivo non dobbiamo chiedere di trovare il cammino di quattro elementi dico quattro per dire lunghezza di quattro elementi ma il cammino di quattro elementi che ha già bloccato il primo la partenza quindi quando io attivo la ricorsione il nodo di partenza l'ho già bloccato lo faccio prima della ricorsione non lo faccio fare alla ricorsione quindi ci metto dentro subito il nodo di partenza part.add partenza partenza è un integer part è una lista di integer quindi ci sta e poi dico partenza l'ho già usato il primo te lo do io gli altri te li fai tu add scusate quindi ricordiamo che part è una lista che cresce o decresce man mano che vado avanti con la ricorsione used è un insieme che contiene gli stessi elementi della lista ma non ordinati quindi più veloce per sapere se c'è o se non c'è a questo punto andiamo avanti di ricorsione cerca e alla fine e alla fine della cerca se ha funzionato bene sta maledetta funzione cerca il meglio che ho è dentro best path quindi return best path che in questo meteo non ho toccato ma nella ricorsione c'è andò giù pesante adesso come sempre arriva il difficile private void cerca allora prossimo ricorsiva primo controlla se sono nel caso terminale se sono nel caso terminale vedi se ho una soluzione ottimale se ho una soluzione migliore di quella che ho già visto se no è un caso terminale stupido se non sono nel caso terminale allora genero un sottocaso e poi faccio ricorsione allora vediamo prima metà sempre sono nel caso terminale quando è che sono nel caso terminale? beh quando il cammino che ho costruito finora è lungo quanto mi serve mi hanno chiesto un cammino da 4 io ce l'ho già da 4 allora non faccio ricorsione non devo aggiungere il quinto vertice mi fermo quindi il caso terminale è semplicemente se path che è il cammino corrente che sto costruendo punto size è uguale a lunghezza se ho già un cammino da 4 non devo ricorsivamente aggiungere gli altri elementi ce l'ho già poi questo qua può far schifo o essere bellissimo adesso andiamo a guardarlo ok? andare a guardarlo vuol dire sapere quanto è lungo e confrontare la lunghezza di questo cammino con la lunghezza migliore vista finora la lunghezza migliore vista finora supponiamo di averla dentro best length e noi possiamo calcolare path length adesso immaginare di avere un metodo lo segnalo a un secondo lunghezza del path scusate int e poi controllo se la mia lunghezza di questo cammino che ho appena creato è maggiore perché sto cercando di massimizzare quindi ho trovato una lunghezza maggiore di quella che conoscevo di best length allora questa soluzione che ho trovato in questo caso terminale è da salvare quindi aggiorno la best length alla path length e a questo punto mi salvo anche il path quindi best path uguale new array list di integer di path copio mi creo una nuova array list che sia una copia del cammino corrente attenzione a non fare questo questo non va bene per questo fa sì che best path punti alla collection che contiene il cammino corrente ma quella collection sta cambiando in continuazione man mano che vado avanti nella ricorsione quindi io continuerei a puntare una cosa che cambia non mi sto salvando una copia io devo proprio fare una copia nuova buttare via la copia vecchia che avevo fare una copia nuova in cui dentro ci copio gli stessi elementi una copia degli stessi elementi quindi questo non va bene ricordatevi sempre di chiedervi se voglio copiare il riferimento e quindi se l'oggetto che sto copiando cambiasse io voglio che il mio riferimento lo cambi allora sarebbe la seconda oppure se voglio fare una fotografia di un oggetto così com'è allora me lo devo copiare su un altro foglio su un altro oggetto se invece non è vero che path length è maggiore della best length vuol dire che ho trovato un altro cammino ma non è migliore di quelli che avevo già visto lo posso dimenticare non ci faccio nulla questo se fossi stato nel caso terminale altrimenti sono nel caso normale allora nel caso normale a meno di euristiche che ci permettono di potare l'albero di ricorsione ma eventualmente lo aggiungiamo dopo che abbiamo fatto funzionare il resto nel caso normale devo prendere uno a uno tutti i vertici che sono ancora da prendere e provare ad aggiungere il cammino quindi per tutti i vertici vertici che siano tra i vertici possibili quindi graph.vertexset se quel vertice non è ancora stato usato if not used.contains vertice perché se è già stato usato non lo posso prendere una seconda volta altrimenti avrei un grafo non semplice questo test qui fa la differenza tra i cammini semplici e i cammini invece in cui posso riusare i vertici più volte se faccio se non faccio questo test allora se il vertice non l'ho ancora usato allora provo e qui c'è la ricorsione lo aggiungo aggiungo significa agganciarlo in fondo al path e dire e ricordarmi che l'ho già usato e poi fare ricorsione quindi path.add di vertice used.add di vertice ricorsione e poi quando ritorno alla ricorsione devo rimettere in ordine la cucina e quindi devo rimettere le collection nella posizione in cui erano prima che avessi provato a mettere quel vertice in modo da poter provare a mettere quello successivo e quindi ho used.remove di vertice e path.remove potremmo fare remove last se non lo taglio remove no remove di vertice anche lì ok mi sono bloccato perché non vorrei che questo remove confondesse perché remove prende un intero come posizione dell'elemento oppure un oggetto e lui se lo va a cercare lo cancella però che in questo momento l'oggetto è anche lui un integer ma non dovrebbe perché lui lo trova come object non come integer quindi visto che c'è un metodo in overloading casualmente l'oggetto che è contenuto è anche lui un intero però sembra che abbia trovato il metodo giusto ok non c'è nessuna ottimizzazione qua ma dovrebbe essere completa l'implementazione questa ricorsione sembra che non faccia nulla ma perché il lavoro lo faccio tutto qua controllo la lunghezza e mi salvo il cammino migliore ci manca ancora l'implementazione del metodo lunghezza che è semplicemente facciamoci una generale qua my path un metodo da cui passo una lista di interi mi dovrebbe ritornare la lunghezza quindi int lungo uguale 0 e poi mi vado a prendere dunque ho un cammino che è fra fatto di 2, 3, 4, 5 vertici devo sommare la lunghezza di tutti gli archi tra coppie di vertici adiacenti ok quindi posso partire 0 più 1 0, 1 pensando in termini di posizione nella collection l'arco che va dal vertice che è nella posizione 0 al vertice che è nella posizione 1 il suo peso più il peso dell'arco tra il vertice che è nella posizione 1 nella collection e il vertice che è nella posizione 2 nella collection e così via quindi vado a sommare da tutte le posizioni che vanno dalla 1 fino a quando ce n'è nel cammino parto da 1 non da 0 ragiono sul vertice d'arrivo lunghe uguale lunghe più il peso dell'arco che va da mypath.get di i-1 e mypath.get allora devo saperlo allora graph.get edge mi faccio dare l'arco tra questi due vertici dal vertice di partenza che è mypath.get di i-1 e il vertice d'arrivo è mypath.get di i quindi la prima volta quando i-1 mi vado a prendere l'arco tra mypath.get di 0 se i-1 quindi il primo vertice del mio cammino e il vertice 1 cioè che sarebbe il secondo poi man mano che i-1 si incrementa andrò a prendere quando i-2 prendo l'arco da 1-2 da elemento 1 a elemento 2 non è tra il vertice i e il vertice i-1 è tra il vertice che è nella posizione i nella collection che può essere la c7 dipende che cosa sia messo dentro e adesso dunque default weight ed edge edge ci sarà un edge punto get weight no è un graph punto get edge weight di edge quindi la mia collection è un cammino di questo cammino prendo uno dopo l'altro tutte le coppie di vertici adiacenti tutte le coppie di elementi adiacenti vado a vedere qual è il vertice che c'è dentro i due elementi delle coppie vado a interrogare il grafo chiedendogli quale arco collega questi due vertici e poi interrogo di nuovo il grafo per chiedergli qual è il peso di quell'arco questo peso lo sommo alla lunghezza fatta questa fatica ho finito il brutto di queste cose è che finché non è tutto finito non si può cominciare a provare quindi magari ci sono dei bacchi che non siamo usciti a testare ma possiamo tornare nel nostro modello e nel main di prova del modello possiamo provare a fare una chiamata e vedere cosa succede magari nel solver mettiamo qualche qualche stampa così ad esempio qua mettiamo quando troviamo il best facciamoli stampare o aggiornato il best così system punto out punto print line print all'enne new best due punti new best length new barra m così almeno vediamo qualcosa è da fare stampare il cammino se vogliamo quindi aggiungiamo nel modello magari una chiamata a get cammino max list di integer cammino uguale get cammino max sell punto get cammino max partenza abbiamo detto che partiamo dalla 3 lunghezza 3 tanto per provare per non farci troppo male con la ricorsione e una volta che ho la lista me la faccio stampare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti proviamoci allora facciamo partire il model che dovrebbe stampare il grafo e poi fare questo lavoro qua run allora quello abbiamo fatto new best questo è il primo che ha trovato il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto poi è uscito la ricorsione e ha detto che il cammino migliore che a questo punto avrà lunghezza 4 4 7 6 presumo è 3 4 5 allora è un cammino di lunghezza 3 effettivamente e inizia effettivamente la circoscrittione 3 quindi che sia effettivamente l'ottimo speriamo proviamo a vedere starlo lavorare un po' di più adesso cambiamoci di coscrizione facciamo un cammino a 5 in teoria dovrebbe lavorare di più l'algoritmo in questo caso è stato veloce e sì perché 5 fattoriale è ancora relativamente piccolo il 120 quindi è ragionevole che sia veloce le combinazioni che deve fare se volessi un cammino più lungo in teoria dovrebbe esserci più tempo no non mi ha preso l'otto sì salva non mi convince tanto che sia così veloce scusatemi dove la cerca non mi ha preso non mi ha preso già che ci sono tolgo quegli a capo aggiuntivi modello vai eh sì sì 260.650 con un cammino da 8 in realtà sono solo 7 perché il primo è bloccato 7 fattoriale ok le fa le chiamate quindi mi sembrava troppo veloce per essere vero ok allora sia così abbiamo una buona fiducia che quel cammino lì sia l'ottimo perché effettivamente avendo fatto quel numero di chiamate ha esplorato tutti i cammini possibili abbiamo addirittura il lusso di poter agganciare tutto questo al controller allora il lavoro lo fa Solver in realtà all'interno di Solver lo fa Cerca Cerca lavora e il suo lavoro è quello di generare best path best path viene ritornato da get cammino max di Solver è tornato a chi? al chiamante model model che aveva anche lui un metodo che si chiama get cammino max che di fatto lo riveste in inglese li chiamano metodi wrapper wrap come to wrap quando fai un pacchetto lo incarti quindi c'è un metodo che semplicemente lo incarti con una carta di colore diverso ma è lo stesso metodo quindi un semplice wrapper intorno a get cammino max di sotto che è quello che invece viene visto dal DAO allora il DAO userà get cammino max dove nel DAO scusate nel controller nel DAO non c'entra niente nel metodo du ricerca cosa fa du ricerca? beh fa cosa fa un controller va a recuperare i parametri chiamerà il metodo del model e stampa il risultato dopo aver ovviamente verificato che i parametri siano sani ed esistenti quindi i parametri sono la partenza che la vado a prendere dalla box uguale box circostruzione di partenza punto get value poi il secondo parametro che ci fai tu qua? via il secondo parametro è la lunghezza che lo vado a prendere dalla casella questa volta è una casella di testo quindi la casella di testo che si chiama txt lunghezza e quindi devo convertire la stringa intero integer punto parse int dxt lunghezza punto get value get scusate get text si chiama non get value poi facciamo attenzione perché scritto così sembra innocuo ma integer punto parse int spara eccezioni parse int non è un metodo tranquillo può generare una number format exception tutte le volte che l'utente non ha scritto un numero intero quindi sta roba qua almeno questa bisogna controllarla try catch chiudograffa catch di core di number format exception qui devo catturare l'eventuale errore di parsing dell'intero visto che poi devo stampare allora facciamo una cosa semplice integer lunghezza se lunghezza riesco a fare il parse nel cache metto semplicemente lunghezza uguale null e la controllo un secondo dopo quindi qui ho letto i due dati ho protetto l'eventuale errore di parsing semplicemente mi sono salvato un null anziché far sparare un'eccezione e a questo punto mi dico se condizione di errore partenza fosse null non va bene oppure lunghezza fosse null nativamente lunghezza non sarà mai null quando la leggo dal get text perché un testo c'è sempre al massimo non la stringa vuota ma per me null significa che quel testo non rappresenta un minuto quindi se null oppure qui ci sono le due condizioni con cui non posso andare avanti poi andiamo a vedere i valori queste sono la presenza di un valore corretto il valore di partenza se non è null sappiamo già che non può essere sbagliato è il ragionamento che abbiamo fatto prima il valore di lunghezza se uno mette come lunghezza 82 oppure meno 7 è un integer valido ma l'algoritmo forse piange allora l'altro caso di errore è quello in cui lunghezza sia troppo piccolo il numero valore minimo di lunghezza abbiamo detto è 2 perché un cammino non può essere fatto da meno di 2 vertici quindi se la lunghezza fosse minore di 2 non va bene oppure se lunghezza qual è il valore massimo della lunghezza è il numero di vertici di circoscrizioni totale se io provassi a fare un cammino di 11 circoscrizioni non riesci mai a trovare nessuno nel mio algoritmo quindi massimo numero di circoscrizioni qui siamo dentro il controller quindi il controller non lo sa quante sono le circoscrizioni ma lo può sempre chiedere a modello 10 circoscrizioni punto size allora queste sono le 4 condizioni principali di errore non è stata sezionata la partenza non è stato scritto un valore sensato nel campo lunghezza oppure è stato scritto un valore intero ma troppo piccolo oppure troppo grande in ciascuno di questi 4 casi non facciamo intervenire dell'algoritmo e quindi txt result punto append text errore nei parametri poi se uno avesse più tempo va a fare messaggi di errore personalizzati l'importante priorità 1 non fare generare eccezione non far piantare il programma poi quando c'è tempo si fanno gli abbellimenti e si dice beh allora se manca il numero troppo piccolo il numero troppo grande il numero mancante eccetera eccetera nel caso ELSO invece posso andare avanti con l'algoritmo quindi di fatto chiedere al modello di calcolarmi effettivamente il cammino get cammino max partenza lunghezza sono già giusti i parametri la ricorsione gira e mi restituirà la lista che a questo punto posso semplicemente visualizzare quindi appenderò un testo del tipo cammino massimo di lunghezza lunghezza spazio partendo da partenza barra N barra N e poi vabbè analizzo for integer i due punti cammino cammino txt result punto appende text i più spazio txt result punto appende text a rn cammino a 2n appende text così ok proviamo non volevo non volevo far partire quello volevo partire il main allora verifichiamo che funziona ancora il punto 1 ma non abbiamo toccato niente senti bravi selezionare fisico scrizione seleziono la 4 elenca ok lunghezza percorso se provo a fare ricerca senza aver scritto nulla errore nei parametri se scrivo una cretinata errore nei parametri se scrivo 4 si pianta null pointer exception dove gli hanno dimenticato un pezzo solo del punto java 70 graph 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 è null qui siamo dentro cerca graph non l'abbiamo mai usato disk punto graph uguale graph arriva il costruttore di solver il costruttore di solver chi è moda andiamo a vedere è stato chiamato qua è stato chiamato qua new solver di graph possibile che eh beh perché il get cammino max è scemo perché non chiama la build graph abbiamo detto ce ne siamo ripetuti tutti i metodi che hanno bisogno di lavorare col graph come prima cosa chiamano la build graph che almeno la prima volta lavora e poi la prima volta che abbiamo scritto un metodo di quelli ce li siamo dimenticati allora da capo possono tutti così gli errori facili da trovare ah il main ho 4 main diversi allora cammino massimo di lunghezza 4 partendo da 3 3, 4, 7, 6 se io invece partissi da 8 cammino massimo di lunghezza 4 partendo da 8 8, 7, 6, 5 eccolo che è cammino di lunghezza 8 partendo da 8 mi da questo qua 8, 1, 7, 6, 5 eccetera però meno la lunghezza è quella giusta e il vertice di partenza è quello giusto che poi sia effettivamente il massimo a occhio non è così facile da vedere ci si deve fidare dell'algoritmo 10 ci sono tutti i 10 il numero di chiamate è vicino a un milione le ha fatte per fortuna abbastanza veloce per cui quasi non ce ne accorgiamo passa meno di un secondo il testo non diceva nulla in particolare riguardo all'ordine con cui queste due funzioni possono essere richiamate per cui ho lasciato abilitato anche il secondo bottone posso schiacciare secondo prima del primo e viceversa non c'è nessun motivo l'importante è che questi parametri siano specificati entrambi per poter schiacciare il secondo bottone invece il primo solo per poter schiacciare il primo domande? dubbi? difficoltà? timori no perché non posso farci nulla è chiaro che io questo l'ho fatta di getto mi è venuta per fortuna quasi giusta il primo colpo perché in realtà stamattina mi sono andato a rivedere l'implementazione del TSP guardandomi il codice ma voi sia prima dell'esame che durante l'esame avete questa possibilità di andare a vedere il codice che abbiamo già poi non ho preso il codice non l'ho messo qua perché prendere un codice e inserirlo significa averlo capito bene ogni riga ogni variabile qual è il suo scopo eccetera e andare poi a modificare a toccare nei punti giusti uno rischia magari di dimenticarsi il pezzo però se siete tranquilli che una parte di codice magari l'avete fatta voi vi fa più in fretta a fare coppia e incolla qua dentro di una classe che già avete e aggiustarla chiaro che il massimo col minimo cambiano un pochino le condizioni di terminazione qua sono diverse però avendo ben chiaro l'algoritmo avendo un esempio di codice che lo fa metà dei problemi sono già risolti non c'è molto codice in questa parte qua da scrivere il codice è abbastanza denso ovviamente domani proviamo a fare un esercizio abbiamo solo un'ora e mezza quindi non riusciremo ad andare fino alla fine quindi magari cercherò di sorvolare sulle parti facili e concentrarmi sulle parti più quindi partiamo già da un problema mezzo risolto buona serata a tutti buona serata a tutti grazie a tutti